E' un sabato nero quello di oggi, 15 luglio per trasporti a E. Ci operano 8 ore. I disagi interessano tutta la penisola da nord a sud andranno avanti fino alle ore 18. Incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche i piloti di Malta Air che opera i voli di Ryanair. Dunque dopo lo sciopero dei treni di giovedì i viaggiatori dovranno affrontare un'altra giornata molto complicata. Disagi per 270.000 viaggiatori, lo sciopero avrà per forza di cose pesanti e ripercussioni. Il Kodakos ha parlato di 270.000 persone coinvolte tra ritardi e voli cancellati. I vettori dovrebbero fornire comunque assistenza proponendo un volo alternativo al passeggero così come previsto dal regolamento del comitato 2600 del 2004.